Il rischio di una seconda ondata di contagi, dati poco confortanti che arrivano dal bollettino emesso quotidianamente dalla regione Campania, la riapertura delle scuole, ma anche l'invito alla calma e alla prevenzione che arriva direttamente dal presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D'Angelo. Eh sì, va bene, probabilmente stiamo pagando uno scotto con un leggero ritardo, ma non ritardo da un punto di vista delle modalità di trasmissione del contagio, per quello che è stata un'estate che si pensava che fosse una brutta estate da un punto di vista di affluenza, in realtà poi è stata un'estate con molti turisti, anche se sono turisti interni per la maggior parte, c'è persone della stessa regione, ma si sono mossi molto, soprattutto verso il sud, ma anche verso la costiera, e tutto questo, oramai penso che sia nella testa di ognuno che questo, come tutte le malattie virali, si trasmette soprattutto con la vicinanza. Quindi il primo, quello che esisteva da quando è nato l'uomo, è il distanziamento. Il distanziamento è la riduzione dei contatti, ovviamente senza che questo però possa chiaramente annullare, potremmo dire, quello che è la socialità di cui un individuo ha bisogno e anche quelle che sono le condizioni necessarie per mantenere un minimo di economia che oramai galleggia, non è certamente va bene, ma già il galleggiare in una condizione di questo genere significa stare bene sostanzialmente rispetto a quel che sta. Il fatto di queste previsioni affidate non a elementi di carattere scientifico, che sono conosciuti e riconoscibili da parte di studiosi che studiano questi fenomeni, sono più che altre delle scommesse, che oltretutto mi deve scusare se entro in cose che non sono così attinenti alla problematica sanitaria, però immaginate che tutto questo dire si può essere un contagio, non ci può essere un contagio, aumenteranno, diminuiranno. E' come quando guardate il mondo dell'economia, le linee di innalzo della borsa, ribasso della borsa, stagnazione della borsa, cioè tutto questo segue questo flusso di notizie e secondo me questa è la ragione per cui molte volte compaiono, perché chiaramente ogni notizia comporta un riflesso di natura economica. L'OMS però l'altro ieri è stata perentoria sul rischio di una seconda ondata. Io personalmente ho un ottimo rapporto, sapete che è stato ospite del nostro ordine, proprio il vicepresidente dell'OMS Guerra, e quindi figuriamoci se non ho piena fiducia e piena considerazione di quello che l'OMS, anche perché è sua funzione dare questo messaggio. Però tanta sicurezza in un'ondata non ce la vedo. Io vedo più che altro un qualcosa che si sta raggiungendo un livello di endemizzazione lentamente, che non è ancora tale, perché sarebbe un vantaggio questo. e purtroppo vediamo che la possibilità che si sia l'impennata è legata solo ai nostri atteggiamenti.